I lavori, mi vorrei offrire di presentare i colleghi della stampa per la quale è stata organizzata questa conferenza stampa e poi l'amministrazione comunale e la società Casorio Ambiente hanno deciso di aprirla all'intera città. Umberto Torsi di Cosmo oggi, il magistro cuore di Casorio 2, Marcello Mastro cuore di Casorio 2, Sanonio Rai, Comando lo staff del sitaco, Peppino Di Prato di Casorio e di Oggi Online e Giovanni Coccas di Unica Channel, Marcello ma sono come se fossero presenti sia domenica e gioia del mattino che oggi allo santo c'è da Roma. Ringrazio per la presenza e per la partecipazione, gli amici e dell'unità di base di soccopati con il coordinatore Anilto Cioffi, è una cosa che aveva la loro presenza. Ricordo a microfono, mi sono detto in mia voce, questa è una regione tecnica dove Casorio Ambiente, che è una società unipersonale adesso, che riguarda soltanto il comune di Casorio e qui per rilustrare, spiegare ed informare la città attraverso la staff e i suoi presenti il manuale che abbiamo distribuito sulla raccolta differenziata. Raccolta differenziata che è diventata ormai arma basilare per risolvere e sconvincere questo dramma che dovremmo indignare tutti della continua emergenza di rifiuti. Senza di essa sarà ancora più difficile. E prima di passare la prova ai relatori, mi ricorrerò anche ringraziare il lavoro intenso, proficuo della managgia comunicazione ambiente che sta lottando non solo con l'emergenza di rifiuti, ma anche per portare a conoscere tutti questa importantissima vantaglia della raccolta differenziata. I relatori saranno il presidente, la raiore, il sindaco di Pasolio, il dottor Stefano Ferrara, che è anche responsabile della società di Casorio Ambiente, l'assessore all'ambiente Ernesto Variante, il presidente della Casorio Ambiente di Genniere Passaro, il dirigente del settore ambiente e il patrimonio di Ingegnere Arcella e il direttore tecnico di Casorio Ambiente di Ingegnere Antonio Isotto. Inizia la riunione, l'organizzazione, l'assessore Ernesto Variante.